Padernese, questo è un livello, il dicesimo e il dodicesimo in politica. Trigo Francesco, Bellusco, Paglietta e Cato, Padernese, stadio via e un numero di maschile. Vediamo il primo tempo di segnare. e 19.606 per la maglietta di carta 19.297 per Premi Davide e 19.550 per Donas Proverso 19.297 per la maglietta di carta 18.839 per la maglietta di carta 19.388 per Stopp Su L'Unione di Ciccola 18.839 per la maglietta di carta 19.388 per Stocco Su L'Unione di Ciccola 18,422 per Luca Siviglia, 18,422, 18,720 per Mascazzini-Tomato. Settile di Siviglia, 18,650 per Cristian Androtti. E 18,720 per Abyssa Samuele. 18,422 il tempo da battere per raggiudicarsi il titolo regionale, il compiore regionale. E l'Università di Siviglia, vediamo l'arrivo, ragazzo, Bossi. 18,584 per Bossi Leonardo. E 18,720 per Abyssa Samuele, 18,720 per Abyssa Samuele, 18,720 per Abyssa Samuele.